Ciao a tutti, sono Roberta e lavoro nell'ufficio marketing della Berti Pagmenti Legno. In questo video vorrei spiegarvi che cos'è la Shopping Experience Berti. In Berti noi crediamo che il cliente sia l'elemento più importante e quindi è il punto di partenza per ogni azione che compiamo. In questi anni le formule istitutive si stanno evolvendo e per questo riteniamo che sia necessario creare l'atmosfera ideale per gli acquisti. Il primo passo per noi è stato creare la Shopping Experience Berti, cioè creare un vero e proprio mondo all'interno del punto vendita. Abbiamo messo insieme quelle che sono le competenze, le esperienze e anche le procedure operative ideate nel corso degli anni da Berti per progettare e gestire degli store che siano di grande impatto e atmosfera. All'interno della Shopping Experience Berti vogliamo accontentare le diverse categorie di clienti a seconda delle esigenze che hanno, si parla di esigenze di venditore, di spazio e di disposizione e delle esperienze maturate nel settore dei pavimenti in legno. In tutto questo è il punto di partenza per arrivare alla soluzione adatta a quelle che sono le caratteristiche peculiari. All'interno della Shopping Experience troviamo due formule espositive, la formula partner e la formula prospect, corredate dal support your business che sono gli strumenti di supporto alla vendita. All'interno della formula prospect ci sono i clienti che vogliono entrare nel settore dei pavimenti in legno in un modo che sia semplice e veloce. Sono i clienti che iniziano a commercializzare i prodotti Berti, che hanno la prospettiva di potersi sviluppare nel futuro fino ad aggiungere la condizione di partner. Per questi clienti abbiamo creato un catalogo che raccoglie tutti gli elementi espositivi. Tutto via questa formula non si esaurisce solo nei moduli e negli espositori, ci sono anche dei servizi che permettono di consolidare il vantaggio competitivo che viene realizzato nel corso del tempo. All'interno della formula partner invece troviamo i clienti top, che rivestono un'importanza primaria per Berti. Sono i clienti che hanno raggiunto l'eccellenza in termini di fatturato e che godono di un livello qualitativo superiore alla media. Per questo Berti mette a disposizione tutti i vantaggi in modo da sostenere la crescita nel corso del tempo. C'è un'assistenza qualificata in tutte le fasi del progetto, dalla nascita alla realizzazione fino al momento successivo all'apertura. Si realizza una stretta collaborazione con il reparto marketing grazie a un team di designer, progettisti e visual merchandiser che mettono insieme le proprie competenze in modo da creare una proposta di allestimento unica ed originale. Si parte della piantina e si arriva alla consegna del negozio chiave in mano. Si crea un punto vendita che è la misura del cliente e che può contare su un'immagine che sia allo stesso tempo forte e identificativa. Vediamo infine i vantaggi per i clienti Berti un po' più nel dettaglio. È un pacchetto di servizi che per noi è uno strumento essenziale per la vendita. Sono dei servizi studiati per offrire sia ai prospect che ai partner un potenziale di crescita e di redditività. Individuiamo all'interno di questi servizi quattro aree tematiche. La prima sono i vantaggi commerciali, seguiti dalla comunicazione, il servizio e l'assistenza alla vendita e il punto vendita. Tutto questo con lo scopo di coprire le attività distributive con una panoramica a 360 gradi. Con questo ho finito, vi ringrazio e vi saluto.